L'aragonicia fulva è un coleottero della famiglia Cantaride. Specie comune, essa misura 8-10 mm. Le sue antenne sono nere, a volte con il primo segmento arancione. La testa e il pronoto sono arancioni e lucenti, con una fine pubescenza visibile sulla testa. La forma del pronoto è variabile, ma si restringe verso la testa. Le elitre coprono le ali e la maggior parte dell'addome e hanno un color rosso scuro lucido. E terminano in una chiazza nera ben visibile sull'estremità apicale. Questa è una delle loro caratteristiche identificative. Gli adulti si nutrono di afidi, ma anche di polline e nettare. Le larve predano invertebrati, che vivono nel terreno, come lumacche e limacce, e vivono alla base di erba dal lungo stelo. Gli adulti, visibili sia in pratiche in aree alberate, come boschi, sono attivi tre mesi di giugno e agosto, e trascorrono gran parte della loro breve vita accoppiandosi. Gli adulti, visibili sia in questo video, in realtà, con il mondo è un'esprezionale. Grazie a tutti